Attualmente abbiamo ricoverate 188 persone. Sono persone che arrivano in pronto soccorso con quadri clinici molto pesanti, in codice arancione o rosso. Fate conto che dalle 40 alle 50 persone che accedono ai nostri pronti soccorso con una sintomatologia da coronavirus, 10-15 persone vengono ricoverate direttamente. Ancora in crescita i ricoveri nell'azienda ospedaliera di Padova, una ventina anche nell'ultima settimana in cui i nuovi contagi in provincia hanno toccato quota mille. Un aumento lento ma costante che preoccupa le istituzioni sanitarie. Occhi puntati soprattutto sulla terapia intensiva dove si segnalano 5 ricoveri in più. C'è la preoccupazione innanzitutto per le persone che vi accedono perché accedono con quadri pesanti. Naturalmente ci sono i posti disponibili per accogliere queste persone anche perché le terapie intensive della nostra regione lavorano in rete. Quindi sono una collegata all'altra. La quasi totalità dei contagi sono ormai ascrivibili alla variante inglese che si è diffusa in maniera capillare nella provincia euganea andando a toccare anche pazienti in età pediatrica. Il 18% dei casi covid portati al pronto soccorso sono infatti bambini e ragazzi minorenni. Migliora invece la situazione dei ricoveri tra gli ultraottantenni. Non vediamo ricoverati quegli anziani, quei grandi anziani che avevamo ricoverati nella prima ondata e in parte nella seconda provenienti dalle case di riposo. La vaccinazione all'interno delle case di riposo evidentemente sta dando degli ottimi risultati.